Quello che qui appare come arte sono in realtà diverse modalità di costruzione di funi metalliche, più precisamente le loro sezioni. E come nasce una fune, ve lo mostriamo adesso. A seconda dell'utilizzazione, le funi sono formate da numerosi fili d'acciaio diversi, spessi e sottili. Sono consegnati su cosiddetti coils. Ogni singolo filo d'acciaio viene innanzitutto collaudato per verificare la sua resistenza. Questo è importante per assicurare la forza portante della fune. Se tutti i valori sono a posto, la fune viene messa su bobine come queste. E dato che una fune è formata da tanti singoli cavi d'acciaio, ce ne vogliono quindi tanti. Queste bobine di funi vengono poi inserite nella cosiddetta macchina intrecciatrice. Dal cesto dell'intrecciatura, così si chiama questa parte della macchina, i fili sono tirati attraverso la testa dell'intrecciatura e affinché la fune sia ben protetta, viene spruzzata col grasso. Adesso abbiamo il nostro primo trefolo. Una fune nasce quindi dalla cooperazione della trazione del trefolo e del contemporaneo girare del cesto dell'intrecciatura. Con una ruota di trazione come questa, i trefoli vengono tirati fuori dalla macchina e se giriamo insieme nuovamente diversi trefoli e li tiriamo attraverso la testa dell'intrecciatura, viene fuori una fune a trefoli. Questa è quindi veramente spessa e deve essere controllata regolarmente per verificare che il diametro sia quello giusto. Ciò si può fare a mano o con un misuratore laser come questo. Con la prova di trazione finale della fune, la macchina testa se sono soddisfatte anche le esigenze di sicurezza. La fune pronta viene arrotolata su bobine, così si chiamano queste spole alte fino a 5 metri, in modo che poi si possano anche trasportare. Le bobine, le quali possono pesare fino a 150 tonnellate, vengono caricate con una gru particolare sui camion e trasportate al cliente con una scorta. Grazie. 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 Grazie.